Inizia con entusiasmo la nuova stagione dell'Ortigia. Era l'uomo più attenso da quando è stato ufficializzato il suo arrivo all'Ortigia. Stefano Tempesti, pochi giorni fa, ha ufficialmente iniziato la sua avventura in bianco-verde e circondato dall'entusiasmo di tutto l'ambiente. In lui, nella forza e nell'infinita esperienza di questo campione leggendario, sono riposte le speranze per una grande stagione per i colori bianco-verdi. Il portiere toscano, dal canto suo, è pronto ad affrontare questa sfida con grande determinazione. A 40 anni, affermo la Tempesti, mi rimetto in gioco. Qui c'è tanta voglia di fare e sono contento perché mi rendo conto di aver contribuito a creare questo clima di entusiasmo che sarà sempre ai massimi livelli, al di là dei risultati che poi verranno. Mi hanno chiesto, proseguo l'ex portiere del Recco, se arriveremo terzi o vinceremo la Coppa. Noi non possiamo prevedere quali saranno i risultati, si può arrivare secondi, così come ottavi, ma ciò che conta è creare qualcosa che renda l'Ortigia una società di livello che duri nel tempo. E avere dei giovani promettenti e dei giocatori esperti di carattura internazionale significa avere una strategia giusta. Nelle società che hanno progetti a lungo termine ci vuole il giusto mix tra chi insegna e chi ha energie da vendere. Sugli obiettivi dell'Ortigia Tempesti non pone limiti, ma predica realismo. Il nostro obiettivo deve essere quello di fare la finale scudetto con la Pro Recco. Poi però bisogna essere realisti e capire che anche le altre squadre sono rinforzate, quindi può succedere di tutto. Ci si può ritrovare secondi, così come ottavi, perché il livello è alto. Noi intanto dobbiamo puntare all'obiettivo più alto, poi strada facendo vedremo. Sull'Euro Cup in programma Siracusa dal 13 al 15 settembre il portiere Biancoverde mette in guardia sulle insidie. Gli avversari sono tutti temibili. Quando inizia una stagione ci sono mille incertezze, ci sono tanti innesti nuovi e la squadra deve ancora trovare la sua identità. Pertanto puoi andare incontro a delle incognite che poi vedi solo sul campo. Sarà un impegno difficilissimo, come sempre può accadere di tutto, ma si spera che per l'impegno dimostrato da parte nostra e dalla società tutto vada nella direzione giusta. Sulla possibilità di riprendersi la nazionale per poter disputare la sua sesta Olimpiade, entrando di fatto nella storia dello sport mondiale, Tempesti è molto determinato ma sereno. Non ho mai nascosto di essere a disposizione delle scelte di campagna, poi vedremo quale sarà la sua idea. Da parte mia non ci sono dubbi su quelli che saranno l'impegno, la forma fisica, l'entusiasmo e tutto il resto. Se campagna avrà bisogno di me ben venga, se non ne avrà bisogno accetterò la decisione con tranquillità e con il sorriso come sempre. In vista della nuova stagione, infine, Stefano lancia un appello ai tifosi e alla città. Ai seracusani e ai tifosi chiedo di venire, di avvicinarsi perché la società ha fatto un grande investimento in termini di immagine e di crescita per un progetto importante. Bisogna che la città ci sostenga, che la piscina sia sempre piena in campionate e in Eurocup perché non sarà facile, ogni partita sarà complicata e se la tribuna sarà piena e i tifosi ci sosterranno avremo sempre un uomo in più.